La comunità di Montesano sulla Marcellana si stringe al dolore della famiglia di Chiara Pepe, la 32enne truccatrice morta in un incidente stradale nel Lazio. Chiara Pepe si occupava di make-up teatrale e cinematografico, una vera passione nata dal suo amore per l'arte e la pittura. Aveva lavorato come truccatrice in diverse serie televisive di successo, tra cui L'amica geniale e Mina Settembre. Era ben nota nel Vallo di Diano, infatti pur se risiedeva a Battipaglia la famiglia di Chiara e originaria di Montesano sulla Marcellana. Un cordoglio per tutti noi, un grave lutto che ci colpisce al cuore, ha rimarcato il sindaco Giuseppe Rinaldi, siamo al fianco della famiglia di Chiara. Chiara Pepe è stata più volte a Montesano sulla Marcellana, non solo per visite familiari, ma anche per alcune performance della sua arte. Intanto anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha manifestato il proprio dolore con un post. Esprimo il profondo cordoglio mio personale e della civica amministrazione per la tragica scomparsa della 32enne Chiara Pepe, vittima di un mortale incidente stradale. Un abbraccio di fraterna solidarietà alla mamma Maria, al papà Vicente, ai fratelli, a quanti l'hanno conosciuta ed amata. Chiara era una donna speciale, un'artista a 360 gradi che è riuscita a trasmettere a tutti noi straordinarie emozioni. Sublime corista, illustratrice geniale, make-up artist apprezzata sul set dell'amica geniale Mina Settembre, addio Chiara volata in cielo, grazie per averci donato la scintilla della tua arte che continuerà a riscaldare i nostri cuori. Fin d'ora assumiamo l'impegno di dedicare alla memoria di Chiara Pepe una delle prossime rassegne corali che con il maestro Vicente Pepe organizzeremo in città.